Caro Antonio, la grandezza di un attore, di un personaggio comunque popolare, di spettacolo, che faccia cinema, che faccia teatro, non è un'interrogazione? No, è perché tu sei partita da lontano, come se voglio fare qualche domanda, insomma io potrei essere preparato su qualche argomento, se no se devo consegnare il libretto io lo rompo, capito? Vai, vai, ti lascio qui al centro. Posso dire due parole alle persone? Quello che vuoi. Sì, grazie. Allora la prima cosa da dire è il piacere di essere qui stasera in questa meravigliosa trasmissione. Il fatto diciamo che uno riflette sempre in questo momento è questo, sono quelle che si chiamano le restrizioni, le cose in cui siamo costretti in questo momento. Noi stiamo venendo da Napoli, siamo venuti con la macchina, io e il mio chitarrista Mariano e il mio collaboratore storico Carmine siamo arrivati qui all'interno del Tecnopolo, c'era un signore là fuori, la prima cosa che ci ha chiesto è che scusate, prima di entrare ho tenuto il telepass. Ha chiesto perché scusate, io non ho capito, perché vado a trovare un telepass? Ha chiesto, scusate io mi sono sbagliato, volevo dire il bypass, ma perché non è malato di cuore, un po' trascicca, facetemi capire. Il problema fondamentale poi è anche questo. Prima si parlava della grandezza, dell'altezza, io ho incominciato a fare questo lavoro, proprio perché queste dimensioni che praticamente mi hanno accompagnato per tutta la vita, XXL, io quando sono nato pensavo che fosse una cosa positiva, invece ho stato sempre una difficoltà, una difficoltà per i vestiti, per le scarpe, per la macchina, una difficoltà da prima di nascere. Pensate che il dottore a mia madre, per fargli l'ecografia nello studio, aveva taccato un maxi schermo, e tutti i bambini li mettono sul lettino, a me per sicurezza mi misero in una stanza dove fuori c'era scritto ponteggi in allestimento, mi misero in questa stanza, mi mettono tutti i bambini per lavarli, mi trovo un infermiere che non mi conoscevo, si è visto il dottore, subito ha fatto, già si è spugliato. Poi mi misero nel nido, un bambino, una bambina, un bambino, una bambina, un bambino, una bambina, sapete nido come funziona? A un certo punto c'è un orario, si sposta la tenda, tutti guardano il bambino, mio nonno, vicino a mia nonno, dice guarda buono, sta una cosa strana, vedi c'è un infermiere che dorme in mezzo agli altri bambini. Poi mi portarono a casa, grazie, mi portarono a casa, la prima cosa che io capì è che mia madre era pericolosa, perché vi ricordate i bambini, quelli della mia generazione, che non camminavano bene, camminavano in due girelle per essere aiutati, i camminavano in da carriolo. Gli uggirelle che fa? Ti blocca le gambe e ti fa muovere le mani, e se per caso tua madre malauguratamente ha messo la cera sul pavimento, il rutello e gli uggirelle fanno come una partita a flipper, e ogni cosa che io toccavo, mia mamma mi ha detto, non mangiare questa mamma, questa è cacca, e già mette la mano, no? Non bere Coca-Cola, è cacca, perché la mia è tutta la tavola allora. Toccare la spina e cacchi, di nuovo l'uomo e cacchi, mamma ma sta merda, se non è una case merda allora. Poi vi faccio una domanda, amici che siete praticamente al di là del teleschermo, secondo voi qual è il più grande razzismo o differenza che esiste dalle persone sulla faccia della terra? Ci dicono che il mondo è diviso fra i neri, i bianchi, i cristiani, i musulmani, i ricchi, i poveri, non ne ho vero niente. La più grande differenza tra le persone la vivo io sulle mie spalle tutti i giorni e fra le persone magre e le persone grasse. Che se mo' andiamo a fare un tavolo di 15 persone dopo la trasmissione e mangiamo insieme, se mangio una persona magra non la guarda nessuno. La persona in sovrappesa, mentre sta parlando con te, per un secondo scorda di essere grassa, sta parlando con te, ci passa e passa, se metti una mollica di pane in bocca, ci passa e passa, guarda, però se non la conosci, stai sempre a mangiare, chi è tu? E allora pensate a me, se per esempio un signore della dimensione normale del nostro amico Alfio Lombardi arriva a Napoli sotto un ascensore, non succede niente, perché Alfio arriva, sarà per l'ascensore, se uno come me che è 2,10 metri per 140 kg arriva sotto un ascensore, sapete che succede? Si apre l'ascensore, a chi incontri ha gente più basso del mondo, 1,50 metri, 1,60 metri, impauriti, in tuo muro, su quanto fa, oh, ma tu hai capito? Questo deve entrare qua, oh, e poi guarda una targhetta vicino al muro, leggendo, capienza, 8 persone, 600 kg, tu guarda fa, ma ce la facciamo secondo te? E che sto circa in tuo palazzo. Nata cosa che succede per chiudere quello che noi impariamo nel manuale della teoria della scuola guida, dell'autoscuola, è sempre diverso dalla realtà. Pensate per esempio quando l'autoveicolo va in panne, si ferma la macchina, cosa dice il codice della strada? Ci togliere il veicolo per non tracciare la circolazione, mettere il triangolo, indossare il giubbino, già quel giubbino arancione, catarifrangente, che sta in macchina, a me mi arriva qua, questa altezza. Io già tengo questo giubbino che è parato, tu? Sono appoggiato vicino alla macchina per chiamare l'accio, io con uno che ti viene a pigliare, la scena è sempre la stessa, passa un amico tuo che non vede da un paio di anni, a marci indietro si va, iiii, che l'è, si è rotta la macchina. No, sto perdendo tutto il mio esame. Dici, ma la macchina che t'è? Dici, che ne so, vieni a vedere. Con la saccenza di chi non sa, arriva, apre il cofano, guarda all'interno, fa questo non c'è bisogno dell'accio, questa è la batteria, se tu la macchina la spingi, quella parte, lui se ne va e tu resti là che non sai, si è butta la macchina, metterà la seconda, metterà la chiave, giro questo terzo. Se la spingi una persona di corporatura normale o una donna bella, sempre quello che passa e fa, vuole una mano? Si ha voti sotto solo, tu su lato, su una salito, quindi c'ha avuto la patologia di corti, su un clopero, chi se passa, si muovate, fa, eh, eh, vut, chiatto vut, fa bene, va. Grazie.